via via ci siamo questa volta partiranno tutti dalla stessa fila la strategia non verrà deciso dai box e non guarderanno gli avversari negli specchietti ma dritti negli occhi otto piloti per un gran premio al tavolo verde pip stop poker allacciatevi le cinture da lunedì alle 23 e 30 su sky sport 2 grazie